Benvenuti al corso Introduzione alla mobilità sostenibile, l'importanza di una mobilità rispettosa dell'ambiente, efficiente ed equa. Sono felice di avervi con noi in questo viaggio verso la comprensione del concetto di mobilità sostenibile. Sono entusiasta di accompagnarvi in questo viaggio di scoperta verso una mobilità più sostenibile. Esploreremo insieme i concetti di Mobility as a Service, MAAS e Sharing Mobility, due modelli innovativi che stanno cambiando il modo in cui ci spostiamo nelle nostre città. Vedremo come questi approcci non solo offrono vantaggi significativi per ciascuno di noi, come maggiore flessibilità e riduzione dei costi, ma anche per la collettività, contribuendo a ridurre il traffico, l'inquinamento e a migliorare la qualità della vita urbana. Discuteremo anche delle sfide e delle opportunità per migliorare l'attuale sistema di mobilità, rendendolo più efficiente, equo e rispettoso dell'ambiente. Preparatevi ad esplorare nuove idee e a pensare a come potete contribuire a questa trasformazione. Prima di approfondire i concetti di mobilità sostenibile, riflettiamo un attimo sui nostri comportamenti quotidiani. Quali mezzi di trasporto utilizzate più spesso? Siamo spesso portati a scegliere un mezzo per abitudine, senza considerare le alternative che potrebbero essere più efficienti, economiche o sostenibili per il tragitto che dobbiamo percorrere. Ad esempio, molti di noi prendono automaticamente l'auto per andare al lavoro o a fare la spesa, senza riflettere se ci sia un'opzione di trasporto pubblico, un percorso sicuro per la bici o se possiamo camminare per brevi distanze. Pensiamo a come queste scelte influenzano non solo il nostro portafoglio, ma anche l'ambiente e la qualità della vita urbana. Il nostro obiettivo qui è quello di riflettere su queste abitudini e valutare se esistano mezzi alternativi che potrebbero essere più adatti alle nostre esigenze quotidiane, contribuendo al contempo a una mobilità più sostenibile. Immaginate di poter scegliere il mezzo di trasporto più adatto a ogni singolo spostamento, senza la necessità di possedere un'auto o un altro veicolo. Questo è il cuore del concetto di Mobility as a Service, o MASS. Invece di possedere un mezzo, MASS offre accesso a una gamma di opzioni di mobilità, come trasporto pubblico, car sharing, bike sharing e altro ancora, tutte integrate e accessibili da un'unica piattaforma. MASS è molto più di un semplice servizio di trasporto. Si tratta di una nuova visione della mobilità urbana, che combina infrastrutture efficienti e servizi digitali innovativi per fornire una soluzione di trasporto flessibile e sostenibile. Il vero potenziale di MASS è quello di permetterci di muoverci liberamente e comodamente, senza le limitazioni e i costi associati al possesso di un veicolo. È una proposta che non solo offre più libertà personale, ma anche contribuisce a una riduzione dell'inquinamento e del traffico nelle nostre città. Per poter realizzare una mobilità davvero sostenibile e accessibile a tutti, ci sono alcuni requisiti fondamentali che dobbiamo soddisfare. Primo fra tutti, un trasporto pubblico locale che sia efficiente, affidabile e ben collegato. Questo è la spina dorsale di qualsiasi sistema di mobilità integrato. In secondo luogo, dobbiamo facilitare l'accesso a una varietà di mezzi di trasporto, anche quelli che non richiedono proprietà personale. Questo concetto, chiamato intermodalità, consente agli utenti di combinare diversi mezzi in un unico viaggio per rendere gli spostamenti più rapidi e comodi. Ad esempio, una persona potrebbe usare la bici per raggiungere la stazione del treno, prendere il treno per il centro città e poi utilizzare un monopattino in sharing per l'ultimo tratto. Infine, è essenziale che l'accesso alle informazioni sia semplice e che l'acquisto dei servizi di mobilità sia intuitivo. Ciò significa avere app user-friendly che mostrano tutte le opzioni di trasporto disponibili, con la possibilità di acquistare biglietti o prenotare servizi con pochi clic. Solo così possiamo garantire un'esperienza di mobilità senza soluzione di continuità e realmente integrata. Se immaginare un trasporto pubblico locale efficiente non richiede uno sforzo particolare, per comprendere al meglio gli aspetti necessari a rendere disponibili a tutti i diversi mezzi di trasporto, anche non di proprietà, è bene incominciare dal concetto di sharing economy. La sharing economy, o economia della condivisione, è un modello economico innovativo che si basa sulla condivisione di beni e servizi tra individui. Questo può avvenire sia gratuitamente sia a pagamento. Ma ciò che è importante è che questa condivisione è facilitata principalmente attraverso piattaforme digitali come app e siti web. Immaginate la sharing economy come un grande mercato digitale dove le persone possono offrire o cercare risorse che non utilizzano appieno. Ad esempio, un'auto che una persona non utilizza ogni giorno potrebbe essere condivisa con qualcuno che ne ha bisogno solo occasionalmente. Oppure, una stanza inutilizzata in una casa potrebbe essere affittata a viaggiatori tramite piattaforme come Airbnb. L'idea è di ottimizzare l'uso delle risorse che già possediamo, riducendo così lo spreco e promuovendo un consumo più sostenibile. Inoltre, la sharing economy permette una maggiore collaborazione tra individui che possono beneficiare di costi più bassi e una maggiore varietà di servizi. La sharing economy si basa sui concetti di prestito e acquisto collettivo, permettendo alle persone di accedere a beni e servizi di cui non hanno bisogno in modo continuativo. Immaginate una lavatrice comune in un palazzo, come si vede spesso nei film americani. Invece di avere ognuno la propria lavatrice, gli inquilini condividono una lavanderia comune, riducendo i costi e l'impatto ambientale. Questa idea si è evoluta grazie alla tecnologia, che facilita la condivisione anche tra persone che non si conoscono. Piattaforme digitali e app permettono di connettere chi ha una risorsa inutilizzata con chi ne ha bisogno, rendendo la condivisione semplice, sicura e accessibile. Pensate a oggetti come un veicolo o un attrezzo atto a svolgere un compito molto specifico. Grazie alla tecnologia, possiamo facilmente accedere e utilizzare una vasta gamma di beni senza possederli, ottimizzando così l'uso delle risorse disponibili. La sharing mobility è un concetto che sta trasformando il modo in cui pensiamo agli spostamenti quotidiani. Invece di essere vincolati dalla proprietà di un veicolo, abbiamo la possibilità di accedere a una gamma di mezzi di trasporto in modo flessibile e su misura per le nostre esigenze. Che si tratti di un'auto, una bicicletta, un monopattino o uno scooter, questi mezzi sono disponibili per noi solo quando ne abbiamo bisogno, eliminando i costi e le responsabilità associati alla proprietà. Questo è reso possibile grazie a piattaforme digitali intuitive che permettono di prenotare e utilizzare un mezzo in pochi clic. Non dobbiamo preoccuparci della manutenzione, dell'assicurazione o del parcheggio. Tutto è incluso nel servizio. Inoltre, la possibilità di noleggiare a breve termine, anche solo per pochi minuti, significa che possiamo adattare il nostro mezzo di trasporto al tipo di viaggio che stiamo facendo, riducendo gli sprechi e aumentando l'efficienza. Questa è la bellezza della sharing mobility, un sistema dinamico che si adatta alle nostre vite, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo una mobilità più intelligente e sostenibile. Esistono diverse forme di sharing mobility. Con il car sharing, ad esempio, noleggiamo un'auto per un breve periodo, ideale per chi ha bisogno di un veicolo solo occasionalmente. Oltre alle auto, la sharing mobility si estende anche alla micromobilità, con opzioni come biciclette, monopattini e scooter. Questi mezzi sono perfetti per coprire brevi distanze o l'ultimo miglio del viaggio. La combinazione di questi servizi rende la mobilità urbana più flessibile, accessibile e sostenibile, riducendo la necessità di possedere un veicolo personale. Oltre al noleggio di un mezzo da utilizzare individualmente, la sharing mobility comprende anche tutte quelle modalità che prevedono di usare un unico veicolo con altri passeggeri, ottimizzando i costi. Ad esempio, il carpooling implica condividere un viaggio con altre persone che hanno la stessa destinazione o un percorso simile, generalmente, utilizzando il veicolo di uno dei partecipanti. E poi c'è il ride sharing, dove un servizio organizza la condivisione dell'auto tra estranei con un contributo economico. La sharing mobility offre una serie di vantaggi significativi per l'individuo, rendendo gli spostamenti più semplici, economici e convenienti. Prima di tutto, ci permette di avere sempre a disposizione il mezzo più adatto per ogni specifico spostamento. Non dobbiamo preoccuparci di possedere un'auto, una bicicletta o uno scooter, perché possiamo scegliere il mezzo più adatto al tipo di viaggio che dobbiamo fare, sia che si tratti di un breve tragitto in città o di un viaggio più lungo. Inoltre, paghiamo solo per il tempo in cui utilizziamo il mezzo. Questo elimina i costi fissi associati alla proprietà di un veicolo, come assicurazione, tasse, manutenzione e depreciamento. Pensate a quanto denaro si può risparmiare non dovendo pagare per questi costi su base continua, ma solo quando effettivamente si utilizza un mezzo. Infine, non ci sono preoccupazioni per la manutenzione o gli adempimenti burocratici. Non dobbiamo preoccuparci di cambiare l'olio, fare la revisione, trovare un parcheggio o pagare l'assicurazione. Tutto questo è gestito dalla piattaforma di sharing, lasciandoci liberi di concentrarci su ciò che conta davvero. Raggiungere la nostra destinazione in modo efficiente e senza stress. La sharing mobility ci dà la libertà di muoverci senza le complicazioni e i costi associati alla proprietà del veicolo. Molti di noi pensano all'auto come a un investimento necessario. Ma è davvero così? Consideriamo alcune statistiche. Le automobili rimangono parcheggiate il 96% del tempo. Questo significa che per la stragrande maggioranza del loro ciclo di vita non vengono utilizzate per il loro scopo principale, spostarci da un luogo all'altro. Quando finalmente le usiamo, passiamo una buona parte del tempo fermi nel traffico o alla ricerca di un parcheggio, aggiungendo stress e sprechi di tempo alle nostre giornate. Di fatto, un'auto è effettivamente utilizzata solo per il 2,6% del suo tempo di vita. E quando è in movimento, nel 75% dei casi c'è solo il conducente a bordo, il che rende l'uso dell'auto privata ancora meno efficiente. Oltre a questo, dobbiamo considerare i costi. L'auto è spesso il secondo acquisto più costoso per una famiglia, subito dopo la casa. Non solo è costosa da acquistare, ma anche da mantenere. Tra assicurazione, manutenzione, carburante e altri costi, il possesso di un'auto rappresenta una spesa significativa che non sempre si traduce in valore. In realtà, si tratta di un investimento che perde valore dal momento in cui viene acquistato. Per dare un valore concreto alla spesa di cui stiamo parlando, considerando i costi fissi e i costi di funzionamento, il costo medio annuo di un'auto in Italia si stima intorno ai 5.400 euro. Il contributo più importante è dato dai costi fissi. Un'auto nuova perde immediatamente valore, circa il 25% dopo un anno fino al 70% dopo 5. A questo si aggiungono tutti i costi di assicurazione, manutenzione e tasse che dobbiamo sostenere a prescindere da quanto la utilizziamo. L'Osservatorio nazionale della Sharing Mobility ha individuato quattro modelli di mobilità personale a seconda delle abitudini di spostamento. Il primo è basato sull'utilizzo dell'auto per la maggior parte degli spostamenti. Il secondo prevede il possesso dell'auto, utilizzata però solo saltuariamente, alternata a spostamenti con il trasporto pubblico, a piedi e in bicicletta. Il terzo si basa sull'utilizzo prevalente del trasporto pubblico, mentre l'ultimo su quello di mezzi come bicicletta e monopattino personali. Il risultato dello studio è che i modelli che prevedono il possesso dell'auto hanno un costo annuo fino a 3.800 euro superiore rispetto a quelli che non lo prevedono. Un modello che garantisce una mobilità efficiente, contemplando molte alternative, permette ai cittadini di possedere meno auto, ottenendo un risparmio enorme. La sharing mobility non è solo vantaggiosa per l'individuo, ma porta anche significativi benefici per l'intera collettività. Uno dei principali vantaggi è la diminuzione dello spazio pubblico occupato dai veicoli fermi. Pensiamo a quante auto sono parcheggiate nelle nostre strade e piazze, occupando spazio che potrebbe essere destinato a usi più utili e piacevoli per la comunità, come parchi, piste ciclabili o aree pedonali. Ridurre il numero di veicoli in circolazione significa anche meno traffico e strade più sicure. Quando le persone utilizzano servizi di sharing mobility, c'è una minore necessità di possedere un'auto privata, il che porta a una riduzione del numero complessivo di veicoli su strada. Questo non solo riduce la congestione del traffico, ma diminuisce anche il rischio di incidenti e migliora la sicurezza stradale per tutti. Infine, un minore utilizzo di veicoli privati comporta una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti. Meno auto sulle strade significa meno inquinamento atmosferico e un miglioramento della qualità dell'aria, contribuendo a un ambiente urbano più sano e sostenibile. In definitiva, la sharing mobility non è solo una scelta intelligente per l'individuo, ma un passo avanti verso città più vivibili e sostenibili per tutti. E quando non abbiamo alternative efficienti all'utilizzo dell'auto? Beh, prima abbiamo introdotto il carpooling, vi ricordate? Il carpooling è un modo estremamente efficace per migliorare l'efficienza dei nostri spostamenti quotidiani. Gran parte dell'energia prodotta dal carburante in un'auto, infatti, viene utilizzata per spostare il peso del veicolo stesso, molto maggiore rispetto al peso dei passeggeri, soprattutto se a bordo c'è solo il conducente. Nel carpooling, condividendo un viaggio con altre persone che vanno nella stessa direzione, non solo dividiamo i costi, ma miglioriamo anche l'efficienza energetica complessiva per passeggero. Infatti, oltre a sfruttare meglio il carburante che paghiamo per spostarci, in questo modo riduciamo enormemente l'inquinamento e il traffico generati dal nostro viaggio. Sul traffico, l'impatto positivo è davvero notevole. Nel video precedente abbiamo visto che un'auto che si muove a 25 km orari occupa circa 50 m2 di strada rispettando la distanza di sicurezza. Considerando quindi 100 persone che scelgono i mezzi come in figura, molto ottimistica rispetto alla situazione reale, la maggior parte della superficie stradale viene occupata dalle auto. Aumentando però il numero di passeggeri per ogni auto, lo spazio occupato diminuisce velocemente. Infatti, se la media di persone in ogni auto salisse a 1,5, ci sarebbe una riduzione dello spazio occupato dalle auto del 20%, percentuale che sale a 40, quando su ogni veicolo sono presenti almeno due persone. Bene, ora l'ultima cosa che manca è un sistema che renda sempre disponibili e facilmente fruibili tutte le informazioni sulla mobilità. Al fine di ottenere un tale risultato, risulta fondamentale l'adozione di una piattaforma digitale unificata che permetta agli utenti di accedere facilmente alle informazioni in tempo reale su tutte le opzioni di trasporto disponibili, inclusi autobus, treni, biciclette condivise, scooter elettrici e altro ancora. Inoltre, la piattaforma dovrà consentire di acquistare biglietti per più servizi di trasporto in un'unica transazione, semplificando notevolmente il processo e migliorando l'esperienza dell'utente. In questo modo, gli utenti possono pianificare viaggi intermodali scegliendo il mix più efficiente e conveniente di mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione. Semplicemente, tramite il nostro smartphone, potremmo facilmente utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili che aiutino a contenere il traffico e l'inquinamento nelle nostre città, rendendo il sistema di trasporto urbano più efficiente e accessibile per tutti gli utenti. In questo senso, il progetto Mass for Italy rappresenta una rivoluzione nel settore della mobilità urbana in Italia. Questo progetto innovativo è sostenuto finanziariamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un investimento iniziale di 40 milioni di euro ai quali si aggiungono ulteriori 16,9 milioni di euro dal fondo complementare. L'obiettivo principale del progetto è sperimentare l'integrazione di diversi servizi di mobilità, come il trasporto pubblico e le opzioni di sharing mobility, all'interno di un unico ecosistema digitale. Attraverso il Mass for Italy, si punta a creare una piattaforma nazionale per la condivisione dei dati sulla mobilità, che faciliterà la pianificazione degli spostamenti e permetterà agli utenti di accedere a diverse opzioni di trasporto con un'unica app. Mass for Italy si articola su tre linee di intervento strategiche che mirano a rivoluzionare il modo in cui la mobilità è gestita e utilizzata in Italia. Il progetto inizia con l'implementazione del modello di Mass in alcune città pilota. Questo consentirà di testare e valutare l'efficacia dell'integrazione dei vari servizi di trasporto pubblico e privato accessibili tramite un'unica piattaforma digitale. Il secondo passo è lo sviluppo di una piattaforma nazionale aperta per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati di mobilità che faccia da base solida per lo sviluppo di un'applicazione condivisa e perfettamente funzionante su tutto il territorio italiano. Infine, il terzo intervento si concentra sul miglioramento delle infrastrutture digitali esistenti che vadano a migliorare l'esperienza utente e la raccolta dei dati dei servizi di trasporto pubblico e privato. Con questo si conclude il nostro corso sui concetti di Mass e Sharing Mobility. Grazie a tutti per aver partecipato. Speriamo che sia stato di vostro interesse e di avervi ispirato almeno un po' a contribuire a un futuro più sostenibile per le nostre città. Questo corso è stato realizzato all'interno del progetto Life IP Prepare, cofinanziato dall'Unione Europea, che mira a migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano. Per altre curiosità sulla mobilità, vi invitiamo a seguire anche gli altri video-corsi sulle altre forme di mobilità sostenibile e a visitare il sito web per ulteriori dettagli sul progetto. Grazie ancora per la vostra attenzione e buona giornata.